Musica Lo sapevo ragazzi, Arthur sta litigando, sta litigando con Sibilla che le sta dicendo Tu non puoi dirmi che cosa devo fare E invece posso e come E invece posso e come Ragazzi le avrà detto Tu non hai capito, anche se hai lasciato questa casa L'hai lasciata per inseguire il tuo sogno E io te l'ho permesso Gli ha detto tu mi hai ingabbiata Oh mio dio ragazzi ma questa cosa non la si può dire ad Arthur Maledizione, maledizione Sibilla Ma come puoi dire questa cosa papà Mi hai trattato come un burattino Speravi che io sposassi un uomo per soldi Per soldi Ma come ti permetti di insinuare che io volessi i soldi della dota Io volevo soltanto il tuo buon futuro No ragazzi non ci posso credere che sono arrivati a dire questo Però sinceramente lo capisco perché Lo sapevo Allora loro stanno disputando e Arthur sa No basta hai chiuso se non accetti la mia vita Il mio modo di vivere Come hai chiuso papà hai capito Hai chiuso Io posso vivere tranquillamente da sola Ho scelto l'autonomia Ho scelto Sì vabbè l'autonomia è il cavolo ragazzi Perché in realtà comunque adesso Aspetta un figlio da qualcuno Ragazzi Vittoria per nessuno Per il torto d'ambo le parti Io lo sapevo E infatti avete torto entrambi ragazzi Perché sicuramente Arthur voleva Come dire Imporre in un certo senso Ma in maniera benevola Un futuro Di un certo tipo Ma scusatemi ma Cioè lui sta dicendo cose Jacopo da lontano Oh mio Dio Non ci credo Sì credo di sì Comunque voleva imporle Un futuro In un certo senso Comandato Ma sempre per il suo bene E di contro Lei appunto Voleva Trovare la sua strada C'è da dire Che se la tua strada Dove essere questa Sibilla capisci bene Che tuo padre Un pochettino di ragione Ce l'ha Cioè stiamo parlando Del medioevo Un periodo in cui tu Se avevi un figlio da sola Diciamo che Non è che proprio Te la passavi benissimo Quindi Adesso dobbiamo capire Un attimo Come decideranno Di gestire la cosa Anche se Amici e amiche Come potete notare Vediamo un attimo Chiacchiera con Jacopo Sibilla Ecco qua Volete Volete chiarirla La situazione Ma era incinta Oh mio Dio Che è successo? Oh Cosa? Tancredi sta morendo Dalle risate No Che cacchio Ha fatto ridere Così tanto Tancredi No No Tancredi Non il giorno Delle tue nozze Tancredi No Ragazzi Dove è sua moglie? Dove è sua moglie? Oh mio Dio No Il triste è già qua Dai cavolo La moglie Oh mio Dio Lory 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 Ragazzi No Non ci credo Non ci credo Vi prego Allora 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 Conosce Lory Sì Arthur Conosce Lory Lory Dove cavolo sei? Centrare la visuale Ok Aggiungere Oh mio Dio Ragazzi Io non ci posso credere Aggiungere la famiglia Lory Ti prego Ti prego È tutto nelle tue mani Non ci credo Lory Si è divertito troppo È troppo finisce Non può morire così Fai jogging Per schiarirti No Non hanno nemmeno fatto Il loro primo Fighi Fighi Non ci credo Allora Vieni qua Te le trasportati No ragazzi No 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 Una morte dalle risate Io penso di non averla Mai avuta nella vita Mai avuta nella vita Non posso Ancora non posso implorare il trisso Lei comunque è molto felice Quindi ragazzi Dobbiamo assolutamente sperare in bene Allora Allora Lory ti prego Eccola qui Eccola qui ragazzi Allora Ok 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 Assisti alla morte Lory Tuo marito Oh mio Dio Sì Lo sapevo Lei vuole prendersi Le pillole Che non sono ancora State inventate Nel medioevo Vorrebbe uccidersi Oh mio Dio Lory no No Lory ti prego Lory ti prego È tutto Nelle tue Mani Tutto Nelle tue mani Ti prego Ti prego Ragazzi Ragazzi Seduci Allora Allora io vorrei Allora io vorrei Azzardare Seduci Per risparmiare Tancredi Allora Lei è molto Flirtante Peraltro è anche Un'incantatrice Cioè diciamo È ammaliante Vediamo Vediamo se riusciamo A farlo Ragazzi È assolutamente Nelle tue corde Lory Eh No 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 Oh sì No No Non credi Non ci credo Non può essere Morto il giorno Del suo matrimonio Non può Lory Lory No ragazzi Non ci posso Credere Ve lo giuro Metti un abito Più consolo Ragazzi Non può morire Nel giorno Del suo matrimonio Azioni Che posso fare Vai qua Vai qua Ma è qua Guarda C'è il cadavere Di tuo marito No No Ragazzi Ma queste risate Cioè Ha avuto un infarto Ha avuto un infarto Evidentemente Non ci posso Non ci posso Credere Ha avuto un infarto Per la troppa Gioia Per la troppa Felicità Non l'ha saputa Gestire E quelle 12 Gravidanze Saranno solo Un ricordo Lei è vedova Per aver perso Un vero amore Per aver perso Un vero amore Ragazzi Ragazzi Io sono seriamente Sconvolta Da questa situazione Sia perché Appunto Tancredi è morto Nel giorno Del suo matrimonio Sia perché Stiamo vedendo Andare via Tutti Uno dopo l'altro Ma cosa sta succedendo Nella nostra famiglia Roxy Da quando è stata uccisa Sta maledicendo Più persone Che quando era in vita Madonna mia Ragazzi Vi giuro Mamma sta schermata Del ca Cosa Oh mio dio Ragazzi Ma tra l'altro Lori No Non ci credo Ragazzi Lori Sta morendo Sta morendo Anche le perle risate E ha le striature In faccia No Ragazzi No Non ci credo No Ma allora Non era Un infarto Risatine No ragazzi Non ci credo Non è morto D'infarto Allora Avevano una malattia Oddio Il Tristo Ritornerà un'altra volta Vediamo se Lei la riusciamo a salvare Ormai era entrata A far parte Della nostra famiglia C'eravamo affezionati Tristo Tristo Isidora Ti prego Io conto su di te Conto Su di te Ragazzi Se ne sono Tra l'altro Andati tutti Grazie al cavolo Ormai nessuno Vuole più vedere Il Tristo Allora Ti prego Isidora Isidora Io conto su di te Almeno lei Non ci credo Lei è stata Graziata E il mio Il mio tan Credi no Ragazzi O no Sì Ragazzi Io non ci posso Credere Per quanto Voglia bene Allori Ma Non ci posso Credere Che lei Si è stata Salvata E lui No No Ragazzi No Vabbè Ma che c'hanno Tutti quanti Oggi Tra l'altro E non ho Ok Madonna mia Ed eccola qua Isidora Felice Ma che c'ha sul naso Lei E se è l'ercia Ecco cosa c'ha Che bello Ragazzi Però Devo dire Che sono comunque Contenta Nonostante Il marito Si è deceduto Ma ragazzi Scusatemi Ma allora Cioè Quello che avevo pensato Che fosse morto Di infarto D'ancredi Per la risata Per un Uno sforzo fisico Viene meno E a questo punto Immagino che loro Si siano passati Qualche tipo Di malattia Qualcosa Andiamo a girare La ruota E scopriamo Di più Perché io Veramente Non ne ho idea Tubercolosi Ragazzi Con il loro Primo bacio Loro si sono passati La tubercolosi Non ci posso credere Il primo bacio È stato assassino Ha ucciso Ha ucciso entrambi Ecco perché avevano Tutte quelle striature Lei in faccia Quella Era una malattia Oh mamma mia Ragazzi Comunque Rimaniamo sempre qui Nel cimitero Perché abbiamo Ah a proposito La lapide di Tancredi È già qui Avremo modo Di rendere omaggio Ma prima Di fare questo Ragazzi Io direi Che amici e amiche Andiamo a rendere omaggio Prima Alla nostra Splendora Lucenti Quindi portiamo qui La sua famiglia Ed eccoci qua ragazzi All'albero genealogico Della famiglia Lucenti Io Veramente Penso che I lutti Che abbiamo vissuto In tutti questi anni Siano stati devastanti Ma lo sono ancora di più Quando a morire Sono adulti Ragazzi Quindi devo dire Quando muoiono i piccolini Ce ne facciamo pure una ragione Ma quando muoiono Anche inaspettatamente Come è capitato Splendora Certo inaspettatamente Però diciamo Avete visto Cosa è successo Lo scorso anno È qualcosa che È difficile da superare Peraltro Tancredi Ciao Lo vediamo ancora vivente Invece Sappiamo cosa è successo Ma Devo dire che ragazzi Splendora sarà sicuramente felice Di sapere che Ci sono due adolescenti Pronti A crescere Anche a prendere La loro strada Nel mondo E parlo di Tancredi E di Fiammetta Che poi vi farò vedere Per bene Anche da adolescente E abbiamo anche Due giovani backup Michele ed Emma Ma adesso Concentriamoci su Splendora Perché mereda Un degno addio Ragazzi Splendora è nata Il 13 marzo Del 1309 In Italia Quando suo padre Damiano aveva 23 anni E sua madre 22 Ha sposato Alberico Lucenti Il 10 febbraio 1324 Nella sua città Natia Hanno avuto 10 figli E figlie In 16 anni Morì di parto Come sua madre Il primo novembre 1341 In Italia All'età di 32 anni Era più piccola Ecco la nostra Splendora Come l'abbiamo Conosciuta All'età di 13 anni E vi ricorderete Che lei E Beatrice Che adesso Sta con Pietro Robert Si erano stanziate In un lotto Di villaggio Così Nell'attesa Di conoscere Il bel Alberico Infatti Il 15 marzo Splendora Incontra Alberico Pochi giorni dopo Il suo tredicesimo compleanno Alberico Piacque ad entrambe Ma Splendora Ne rimase Folgorata Si sono sposati Come potete vedere Madonna mia ragazzi Splendora Ha sposato Alberico Il 10 febbraio 1324 In Italia Quando lei aveva 14 anni E lui ne aveva 16 Guardate Alla vista Del notaio Il 26 marzo Invece È nata Matilde E purtroppo Ragazzi Avevamo riposto Tante speranze Sulla piccola Matilde Ma è morta Qualche anno dopo Nel 31 Quando Splendora Aveva 17 anni È nato Tancredi Che ragazzi Adesso si sta Per fare una sua vita Ed è nata Proprio Il 17 febbraio Quando lei aveva 17 anni Nel 1327 Ragazzi E invece A dicembre Del 1328 È nata Fiammetta Il 29 Dicembre E sempre Nello stesso anno Lei è diventata Una giovane E bellissima Adulta Sofì Michele È nato Quando lei Aveva 21 anni Sempre quando Però lei Aveva 21 anni La piccola Matilde Come vi avevo Appunto Anticipato Morì Da qui ragazzi Una sfilza Di decessi Ad eccezione Della nascita Di Emma Che ancora vive Abbiamo avuto Il decesso Di Matilde Subito dopo È nata Una nuova bambina Herminia Che le ha chiamato Come sua mamma Ma morì Proprio nello stesso Giorno Della sua nascita Poi nacque Cassandra Ma morì L'anno dopo E diciamo che Le cose Non sono andate Assolutamente Bene Finché nel 38 Nacque Un bel maschietto Luca Che sembrava Essere assolutamente Sano Purtroppo Però Subito dopo Nel 39 Abbiamo avuto Una triste notizia Ovvero Il fatto che Alberico Sarebbe dovuto Partire per il fronte Nel frattempo Splendora Era nuovamente Incinta Ed occupata A badare A figli E casa E decide Di ospitare Margherita Anche L'ha in attesa Del suo amato Enrico Per aiutarla Durante il suo Primo parto Vi ricorderete Che Enrico È partito Quando Margherita Aspettava Il loro primo figlio E quindi Splendora Ha voluto dare Una mano Ma era anche lei Incinta Ragazzi Nel 39 È nata La piccola Viola Infatti Tutto questo Mentre Alberico Non era presente Ragazzi Era Al fronte E Viola A causa Probabilmente Dello stress Che ha subito Splendora Dopo Le morti Dei vari figli Dopo La partenza Per il fronte Di Alberico Il fatto Di rimanere Da sola A prendersi Tante responsabilità Ha fatto sì Che questo Avesse delle conseguenze Consistenti Anche sulla piccola Viola Che appunto Ci ha abbandonato Al momento del parto Non contenti In realtà Abbiamo dovuto dire Addio Anche nel 40 A un maschietto Che poteva essere Potenzialmente Un erede Al piccolo Luca Che appunto Sembrava sano E forte Ma in realtà Ci ha dovuto Abbandonare Nel 41 È nato È morto Anche Teodoro Quindi diciamo Ragazzi La situazione Per Splendora Non è stata Assolutamente Felice E quindi Nel momento In cui Alla morte Di Teodoro Lei aveva dato Tutto Tutte le sue energie Tutte le sue Speranze E veder morire Un ulteriore figlio Proprio durante il parto Ha fatto Crollare Splendora Che ci ha abbandonati Proprio dopo poche ore Dalla morte Del piccolo Teodoro Splendora È morta di parto Il primo ottobre Nel 1341 All'età di 32 anni Lasciando il marito Alberico Dopo 17 anni Di matrimonio I figli di Tancredi Fiammetta Michele ed Emma Il cognato Arthur La cognata Clelia Il cognato Fra Filippo E i nipoti tutti Ebbene sì ragazzi Inizialmente vi dico Mi ero abbastanza illusa Per il fatto Che potesse Aver superato bene Il parto Perché era uscita Anche dalla sua camera Da letto E invece niente ragazzi Invece Si è accasciata È crollata Ed è morta Per il parto Del piccolo Teodoro Ha dato tutto La nostra splendora Ed eccoli qua ragazzi Tutti che stanno Rendendo omaggio Comunque disperandosi Davanti alla lapide Della nostra splendora E guardate Sono venuti anche Pietro Robert E Beatrice Perché Secondo me ragazzi Comunque Beatrice Anche Margherita Che ci sta consolando Ma che dolce Tra l'altro Anche lei È al lutto Ma ragazzi Secondo me è incinta Perché io l'ho vista Tipo vomitare Più volte Credo che Enrico Ci ha lasciato Un dono Potrebbe esserlo Comunque che bella Quella coccardina Lì Ragazzi Come potete notare Anche la moglie Del notaio È venuta A salutarci A cercare Di consolarci Di confortarci E vi dicevo Beatrice Secondo me Ha sempre pensato Che Splendora Fosse un'avversaria Veramente Di gran livello Quindi probabilmente Il rapporto Tra di loro Era sì Di Come dire Nemiche Ma nemiche amiche Sì Pensieri profondi E potete ammirare Anche la bellezza E lo splendore Appunto Della nostra Fiammetta Ed eccola qua Ragazzi È cresciuta così E fatemi sapere Se secondo voi Assomiglia A Diomira Allora Ha gli occhi Un po' troppo di ghiaccio Ma perché Ha preso dalla mamma Che aveva gli occhi Azzurrissimi E quindi questa cosa Per me è ancora più difficile Vederla Qui Rendere omaggio Alla mamma Con questo faccino Che la ricorda Mi fa veramente Soffrire tantissimo Ragazzi Fidarsi dell'universo Eh ragazzi Michele è felice Che alcune siano Sui familiari Alcune delle brave persone Nel mondo Eh sì ragazzi Sono sì I suoi familiari Tanti altri Li abbiamo dovuti abbandonare Ma devo dire che Siamo fieri Delle famiglie Che abbiamo Ma a proposito di famiglie È ancora martedì E quindi Dobbiamo ritornare Da una piccolina Che ci sta aspettando Ed eccoci qua ragazzi Siamo da Agata La figlia di Saratani e Bernardo Per vedere se oggi Potrà diventare Lattante O meno Quindi andiamo subito A lanciare il dado E ho un po' D'ansia oggi Allora ragazzi Affinché la piccola Agata Diventi Lattante Non devono uscire I numeri 12 16 E 18 Io mi taccio Andiamo subito A lanciare 3 2 1 No raga Dai Dai Ma io non ci credo Non ci credo Ma che sta succedendo No Andiamo a vedere Di che morte muore Ragazzi Non ci sto credendo Andiamo a lanciare La ruota per i piccolini Vediamo Di che morte Sta morendo La piccola Agata No Pure lei è caduta Ma che cavolo Ma come li curate Sti bambini No 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 Ma ragazzi Vista l'ora La piccolina È diventata Anche lattante Nel senso che Morirà da lattante Vediamo Cauta Amore Amore Quindi ve la faccio vedere Nel cast Come sarebbe stata Agata E dovremmo dirle addio Ed eccola qua ragazzi Come sarebbe stata Agata Da adulta Non lo sappiamo Ma sappiamo Com'era La lattante Uno splendore Tra l'altro Cioè È più chiara Della figlia di Margherita Vi dico solo questo Ma la amo E mi sembra Che abbia Un po' Di somiglianza Anche con la cuginetta La piccola Sono cugini Sì Con Con Alma Sì 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 Quindi niente ragazzi Dobbiamo dirle addio Salutiamola direttamente Da qua Ciao Mia piccola Agata Addio Ti saluto Per sempre Con noi Sarai Lory Ti rendi conto Che tu sei stata salvata Ragazzi A tal proposito Riceverete aggiornamenti Per quanto riguarda Lory Nelle prossime puntate Ragazzi In questo episodio Muoiono tutti Muoiono anche I lupacchiotti Qui le volpi E infatti Sta decedendo Di anzianità Oh Ed è arrivato Il tristometitore Comunque Cioè Non posso sobbarcarmi Anche dei lutti Degli animali Forse sì Ragazzi Vi dico soltanto Che Arthur È venuto a parlare A tarda sera Con Jacobo Per fargli capire Che deve stare Molto calmo E deve stare Molto attento A come si comporta Con sua figlia Jacobo In realtà Sta dicendo Che lui Non sapeva niente Della gravidanza Di Sibilla Sospetto Che lei Non l'avesse detto Nemmeno a lui E che quindi Lui l'avesse Vedotto Dalle varie voci Di corridoio E che quindi Per questo motivo Si fosse presentato In chiesa Cioè A questo punto Io non so Se anche lui Ci sia rimasto male Della scoperta Bah Allora ragazzi Siamo dovuti Scappare Da Sibilla Perché sta Per partorire Ufficialmente Entrata in travaglio Quindi vieni Immediatamente Qua Ti prego Madonna mia Ragazzi Ho paura È da sola Soltanto Dorotea L'aiuterà E chissà chi L'aiuterà A crescere Questa bambina Bambino Che cavolo è Ma a maggior ragione Che abbiamo perso Tanti uomini E donne In questi anni Ti staremo ancora Più vicini Sibilla Non ti preoccupare Anche se tuo padre Pare che non l'abbia Assolutamente presa bene E probabilmente Picchiera A morte Colui che ti ha messa Incinta Ma non ti preoccupare Sibilla Noi siamo contenti Ti difenderemo sempre Ragazzi Rullo di tamburi Sarà maschio Femmina Maschietto Oddio Ragazzi Allora Io Non so Chi sei il padre Ma so per certo Che Sibilla Vorrà chiamare Questo bambino Julio Come Jacopo Con la sensazione Iniziale Ragazzi Julio Vermer È qui Benvenuto Chissà chi sarà Il tuo pa Eccolo ragazzi Sibilla E Jacopo Hanno avuto Un bambino E sì Abbiamo adesso La prova provata Ma adesso Dobbiamo scoprire Se il parto è andato bene Ragazzi Perché con questi chiari di luna Chi può dirlo Andiamo subito A lanciare il dado Allora ragazzi Andiamo con cautela A vedere se Sibilla Sopravvive Non deve uscire Il numero uno Mi raccomando Grazie al signore Ok Perfetto Mentre invece adesso Per sapere se Julio Almeno arriverà domani Noi devono uscire i numeri Uno Cinque Sette Dieci Quindici E Venti Uno Dieci Uno Cinque Sette Dieci Dai Raga Muore Muore durante il parto In fronte di quell'amore Ma a causa di cosa ragazzi Muore Julio Andiamo a vedere Tre due uno Seppure lui No Problemi nella crescita del feto Raga Io lo sapevo Tante gliene hanno dette A sta donna Che hanno fatto morire Il bambino Frutto di un adulterio Inteso come Frutto Al di fuori del matrimonio No ragazzi No Oh mio Dio Non lo supererà mai Quindi così come è arrivato Il piccolo Julio Se ne va Ragazzi Ci lascio Io non ci sto credendo Vi giuro Io non ci sto credendo Ma Voi pensate Che sia finita qui Vero? Voi pensate Che lei sia salva È giusto È giusto quello che voi pensate Ragazzi Perché non è uscito il numero uno Però vi posso dare un'altra notizia Oggi è il cavolo del compleanno Delle nostre gemelle Di Margherita e di Sibilla E quindi dobbiamo andare a scoprire Porta qui Se loro ragazzi Diventeranno o meno Giovani adulte Quindi andiamo subito a lanciare Prima il dado Per Margherita È incinta Oddio ragazzi Ma ha la pancia Sì Secondo trimestre Ragazzi andiamo a lanciare il dado per entrambi Ma ovviamente qualora lei non dovesse superare il tutto Morirebbe una volta dopo aver partorito No ragazzi Vi prego Non ci credo È incinta E potrebbe anche morire Allora Margherita Ragazzi Lanciamo subito il dado per lei Allora ragazzi Sto dado è un casino Allora non devono uscire i numeri 2 6 11 13 E 14 Affinché Margherita Sopravviva 3 2 1 Sì 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 Ragazzi Ok almeno Margherita ce la siamo assicurata Adesso ragazzi andiamo a lanciare il dado anche per Sibilla Dopo quello che è passato Non deve essere assolutamente facile Però andiamo quindi a vedere anche nel suo caso cosa succede Mamma ragazzi Non ci credo Che botta di fortuna oserei dire Sì E quindi ragazzi Almeno per la nostra Sibilla che ha già partorito Possiamo andare a vederla Giovane adulta Sono molto contenta per te Guarda ti posso dire Veramente veramente molto contenta Lei vuole una grande famiglia felice Nonostante Quello che sta passando Allora andiamo a vedere Goffa Io vi direi di no ragazzi Ecco amante dell'arte Ci sta Assolutamente sì Anche perché sapete che lei Comunque si sta dando molto da fare Per quanto riguarda il lavoro qui tessile Peraltro si stava dedicando Ecco vedete Anche all'acquisto Di tessuti un po' preziosi Ha fatto un po' di cotone Qui ha creato tutte queste situazioni Però io immagino che adesso Post gravidanza Come è andata la situazione qui In Fausta Con Jacobo Le servirà un attimino di tempo Per meditarci su E ragazzi siamo ancora qui Al monastero Siamo tornati da Alma e Clelia E dovete sapere che la nostra Alma Si è messa a studiare un po' Con la religione Grazie appunto Al suo Zietto Filippo Che peraltro Mi sa che sta dormendo Qui Ancora per poco Perché a breve Lo dovremo svegliare Mentre invece Clelia E qui Che stava Praticamente Sopra Il Pollaio E stava disquisendo E parlottando Con Nanta E sinceramente Come darle torto Perché Ci sta ragazzi Che lei voglia ritagliarsi Dei minuti Con un ragazzo Che ritiene essere Molto molto carino Un bel ragazzo Eccetera Ma Fuori dagli occhi indiscreti Del Del capo Del monastero Qui Come si chiama Non la badessa Il badesso Vabbè Ci siamo capiti Oh Oh mio Dio Ragazzi Clelia Ha baciato Dante Ragazzi Clelia Ha baciato Dante Ma spero che nessuno Abbia visto Perché ragazzi Vi ripeto Dante è un seminarista Lui non potrebbe Assolutamente Baciare nessuno Che Mamma ragazzi Clelia Sta satanata Cotta Ma che avevamo detto Che lei aveva una cotta Per lui No Vabbè ragazzi Sì L'avevo dimenticato Ecco Perché Ho santa pace Qui Gattacicova Ragazzi Costringerà Clelia Ma a questo punto Entriamo un pochettino Nel vivo Clelia Costringerà Dante Ad abbandonare Il convento Lei fa da sé Ragazzi Non servo io Non servo io Assolutamente Fa tutto da sé Chiacchiera con Dante Beh Anche lui Devo dire che Il loro rapporto È assurdamente Cresciuto Ragazzi Cioè sia il romantico Che Gli piaccio anche io Oh mio dio Ragazzi Gli piaccio anch'io Potrebbe sembrare Un po' spaventoso Parlare con qualcuno Per il quale Hai una cotta Che dice qua Oh mamma mia Per il quale Hai una cotta Al momento Clelia si sente Un po' insicura E se apparisse Stupida e noiosa Clelia Che questa cotta Sia Clelia spera Che questa cotta Si è ricambiata Speriamo ragazzi Speriamo assolutamente Ma Adesso Spostiamoci un attimino Proprio da zio Filippo Perché ragazzi Oggi È anche Il suo compleanno Quindi Potrebbe essere L'inferno Puro e semplice Allora Io direi Diamogli questa notizia Mentre sta dormendo Quindi Andiamo subito A lanciare il dado Per scoprire Se lui Il nostro Filippo Adorato Passa meno d'età Allora ragazzi Eccoci qua Lanciamo subito il dado Se dovessero uscire Numeri Inferiori A Dieci Quindi da uno A nove Filippo Morirebbe Mamma mia Altrimenti Da dieci in poi Diventerebbe Adulto Andiamo subito A lanciare il dado Tre due uno Mamma ragazzi Sì Filippo Diventa adulto Ed eccolo qua Ragazzi Il nostro Filippo Che è diventato adulto Adesso ha qualche ruga In più Ma devo dire che È sempre Il nostro grande amore Veramente Un fratello Sempre su cui contare In tutti i sensi Quello un pochettino Più inquietante Sinceramente Credo sia A Teir Come avete potuto notare È un po' Non lo so È un tipo strano davvero Comunque ragazzi Io non mi aspettavo Sinceramente Pensavo che Facesse cose Sconcellosche A Teir Mentre invece Vedo che anche Dante È Ah tra l'altro Lui infatti Essendo un monaco Comunque Un seminarista Un seminarista Potenziale monaco È non flertante Nonostante questo Ha baciato La nostra Clelia Beh che dire Ma ragazzi Sinceramente Non so dirvi Se questo impulso Di Clelia A baciare Dante E comunque A cercare un approccio fisico Sia soltanto un modo Di fare chiodo Scaccia chiodo Perché soffre ancora tanto Per la mancanza di Camon Oppure veramente Ha visto qualcosa In Dante Che potrebbe Come dire Farle riaprire Una nuova parentesi Nella sua vita Tra l'altro Andiamo a vedere anche Dante Cosa ne pensa di lei Vuole sicuramente Chiacchierare Con Clelia Vediamo se esce Anche qualche altra cosa Sia amichevole Con il frate Va bene Allora ragazzi Detto ciò Io direi che siamo Ufficialmente giunti Alla fine di questo Anno Di questo 1342 Che tra l'altro Voi avrete visto In due momenti diversi In due video separati Perché è venuto Veramente Veramente Lungo Spero comunque Che abbiate apprezzato Tutto Lo sforzo Fatto E quindi Mettete un pollice Se è così Perché Io sto adorando Tutto quello che sta succedendo A livello comunque Di Situazioni Parallele Delle varie famiglie Ma c'è da dire Che sto soffrendo Anche tantissimo A vedere Andare via Tanti Tanti sguardi Amorevoli Che erano I nostri Amici e parenti Quindi Prossimamente Sicuramente Avremo anche Altre pretendenti Che faremo vedere E altri pretendenti Maschi Soprattutto Mi piange Soprattutto Il cuore Per quello che è successo Per Tancredi Per Tancredi E per Lory Lory però è ancora viva Ragazzi Quindi vedremo Anche cosa ne sarà Di lei Voi lasciatemi I vostri commenti Anche su eventuali consigli E come dire Intuizioni Che avete avuto Rispetto Alle vicende Che sono in corso E ricordiamoci Che c'è anche In ballo Sibilla Che ha perso Il suo primo figlio Nato al di fuori Del matrimonio Chissà se anche lì La situazione con Jacopo Verrà Tutti i nodi Verranno al pettine Quindi ragazzi Noi ci vediamo La prossima settimana Io vi mando Tanti tanti baci Come al solito E mi raccomando Per tutte le notizie E informazioni Seguitemi Innanzitutto su Instagram Perché lì vi do Aggiornamenti in tempo reale Su eventuali novità Come per esempio Il fatto che questo episodio Sarebbe stato diviso in due E su Discord Perché lì c'è La stanza apposita Dedicata proprio Alla Decades Con lo slot Per i sondaggi E non solo Anche perché Grazie a Discord Io posso inviarvi Le notifiche Quando faccio Le mie live Su Twitch E anche qui Su YouTube E vi arrivano Anche le notifiche Per quando carico i video Quindi ci vediamo prestissimo Un bacio a tutti E ciao Ciao